Con una cesta piena di dolci e libri, la Befana ha raggiunto Palazzo Merlato per incontrare i figli dei Soccicrala, il cercolo ricreativo dei lavoratori del comune di Ravenna. Dopo la distribuzione dei regali, ha poi lasciato spazio all'intrattenimento dei burattini del Teatro dell'Aio. Dopo la distribuzione dei burattini del 5 gennaio, è di tutto chiuso. Per si purte, dove vai? Scercato un commento, guarda che è chiuso. Ma io non so proprio dove si possa prendere un soppicolo. Grazie.